L'educazione alla legalità proda sui banchi di scuola e questo il tema al centro di un importante incontro che si è tenuto presso l'Istituto Omnicomprensivo di Formicola Ponte Latone Liberi con ragazzi, docenti e genitori, i sintaci di Formicola e Liberi e con la presenza di una psicologa, un magistrato e naturalmente della dirigente scolastica Antonella Tafuri che ha fatto gli onori di casa. Al tema ha fatto da Traino la presentazione del libro Processo a Pinocchio di Emilia Narciso. L'obiettivo del progetto ha anche lo scopo di rafforzare la relazione tra scuola, territorio e famiglia. A margine dei lavori Giovanna Petrucelli ha avvicinato per noi la dirigente scolastica e poi a seguire l'autrice del libro. Preside, una scuola illuminata e una luce sul territorio. Quindi oggi come si pone per realizzare un progetto educativo e condiviso? Allora, la scuola è una delle agenzie formative del territorio. Sicuramente nel nostro contesto è un punto di riferimento molto importante, quasi unico ed esclusivo. Tuttavia per realizzare la legalità, che non è semplice rispetto della legge ma di tutte le norme, a partire dal rispetto del regolamento d'istituto, da quanto è sancito nel patto di corresponsabilità scuola-famiglia, occorre creare una rete intorno ai nostri ragazzi dove ci sia un'attiva collaborazione scuola, famiglia, enti locali e tutte le associazioni presenti sul territorio. La nostra comunità è una comunità virtuosa. Questo non significa che in taluni casi ci siano dei tentativi di prevaricare le norme comuni, le norme consolidate, ma il nostro vantaggio è quello di riuscire a controllare in maniera costante, continua e capillare e quindi riuscire a prevenire e a realizzare quello che è una corretta formazione ed educazione dei nostri ragazzi. Dottoressa, processo a Pinocchio, quale messaggio vuole trasmettere a docenti e discenti attraverso il contenuto di questo testo? Sì, più che un libro, lo abbiamo più volte detto, è un percorso che abbiamo costruito, ecco, è un modo per far riflettere su quelle che sono le responsabilità degli adulti e quelle che sono invece i diritti e i doveri dei bambini. Sono felice oggi di essere qui a rappresentarlo a Formicola e tutte le scuole e le realtà vicine al territorio di Formicola perché è un territorio amico. Oggi, oltre al processo a Pinocchio, io consegnerò alla scuola l'attestato di scuola amica. Le scuole amiche sono quelle scuole che portano ciò che apprendono ecco all'esterno, lo trasformano in un momento di crescita per l'intera collettività. Grazie a tutti. Grazie a tutti.